Buongiorno a tutti, mi fa piacere che già c'è un movimento da stamattina, l'obiettivo comune di tutti i seggiassi coinvolti era proprio questo, realizzare uno spazio con una struttura non solo bella ma utile, funzionale e professionale, perché queste sono strutture professionali e posso dire che forse la cosa più bella è farlo in riva al mare, abbiamo messo anche una frase per ricordare questo concetto, perché allenarsi all'aria aperta questo era lo scopo, di questo progetto, Wellness Open Air, è proprio quello, creare benessere fisico, psichico con il respiro di un'aria magnifica come quella del lungomare di Son Benillette, quindi per noi è stato un piacere poter realizzare insieme questo progetto e mi fa piacere vedere tante persone curiose ma anche vogliose di iniziare a provarlo, quindi partiamo insomma, grazie. Grazie Roberta Farò.